Musica Così dovremmo esserci adesso Quindi ricapitolando ripartiamo da zero Sperando che adesso arrivi bene Vi dicevo che la trasmissione Spazio Aperto Oggi non andrà in onda così come siamo curati Tanto nell'entrano e a Ugo Lombardi Ma manderemo in onda un bellissimo documentario Un documentario che è stato preparato E' stato prodotto da Pianeta Oggi TV Colato tutto da Massimo Bonella E dura 30 minuti Quindi non vi annoierete Ma soprattutto scoprirete delle cose Molto molto interessanti in questo documentario Perché le foibe fanno parte della nostra storia La storia italiana Quindi non ce ne possiamo dimenticare Prima di passare la foibe però Vorrevo leggervi qualche articolo Oppure darvi qualche notizia Come si suol dire Perché ce ne sono tre che mi hanno colpito maggiormente E riguardano esattamente Il governo Dove Salvini e Di Maio stanno già litigando Perché Salvini ha detto a Di Maio Da solo doveva Gli mancano 90 voti A noi mancano 50 Insomma poi c'è stata la replica Dice vuole quelli di Renzi Auguri insomma Già ci sono queste scaramucce all'interno Di questa intesa che c'è stata Per fare giusto i presidenti delle due camere Comunque i trambi leader Tirano in ballo direttamente o indirettamente Il partito democratico I PD c'entra sempre Cari amici a quanto sempre Che però Almeno a sentire il presidente Uscente Erfini Si è tirato fuori Si sentono Si vedranno Insomma si accumulano Insomma è un Truman Show Del rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio Che si arricchisce anche di un nuovo capitolo Anche questo pubblico Il botta e risposta Sui numeri per fare un governo Insomma È molto singolare sto fatto Va bene Poi passiamo ad un altro argomento Che è molto tragico Che è successo a Livorno Che è esploso un serbatoio in un porto Ci sono due operai morti Nogarin ha detto Più rabbia che dolore Russia ha risposto Bollettino di guerra Insomma Le vittime stavano effettuando Alcuni lavori di manutenzione Fuori dalla cisterna svuotata Dopo aver contenuto Queste cisterne avevano contenuto Acetato di etile Insomma Questo è il quinto incidente Sul lavoro mortale 9 Nell'area appunto Dello scalo toscano La segreteria della CIS L'ha detto Non si può continuare a morire Di lavoro Comunque È veramente drammatica Questa cosa La terza notizia Che voglio darmi Riguarda Il funerale Di Fabrizio Frizzi Sapete questo conduttore Sto ragazzone Anche se Era avanti Nell'età Sembrava Più giovane A vedersi Sempre sorridente Fabrizio Frizzi Insomma Ci sono stati i funerali E quindi Una piazza Gremita Alla fine della messa Ci sono stati Conti E la clerici Insomma Commossi Che hanno letto La preghiera Degli artisti Piazza del popolo Proprio Straboccava di gente Giovani Famiglie Anziani Insomma Tutti erano riuniti Nell'area circostante Alla chiesa Degli artisti Per il funerale Appunto Di Fabrizio Frizzi Presente Tanti volti Noti Amici dello showman Come Giangarlo Magalli Massimo Giletti Antonella Clerici Mili Carducci Max Biaggi Paolo Bonolis Amadeus Massimo Ranieri Max Giusti Marino Bartoletti Tutti hanno detto Un fratello Proprio Lo ha detto Carlo Conti Commentando Un fratello Visibilmente commosso Era comunque Entrando in chiesa Nella chiesa Degli artisti Comunque Anche Fabrizio Frizzi Se era andato Se era andato Per un male Questo male Stava lottando Per questo male Adesso Cari amici Passiamo A quello che È il nostro Argomento Del giorno Appunto Le foib E questo documentario Quindi vi ripeto Questo è uno speciale Di spazio aperto Trasmetteremo Questo documentario Prodotto Da Pianeta Oggitv.net E dal giornalista Massimo Bonella Siamo orgogliosi Di mandarli in onda Anche se È stato mandato È andato in onda Sta andando in onda Sulle televisioni Sul digitale Terrestre Buon ascolto Cari amici Ben ritrovati Il nostro Consueto Settimanale Di approfondimento Pianetronology Reporter Questo è il primo Di tre speciali Dedicati al giorno Della memoria Relativo All'ecidio Delle foibe Sopra il Carso Triestino In occasione Abbiamo Voluto Presentarvi Il libro Dal titolo Rossa Terra Scritto Da Mauro Tonino In occasione Di un convegno Che si era Tenuto a Udine Qualche settimana Fa Organizzato Dal noto Artista Giorgio Valentinuzzi Sottoscritto Ha raggiunto L'autore Sentiamo La foiba Alla fine Di una giornata Era Tardo Tardo Inverno Il sole Cominciava Già a tramontare Non avevamo chiesto In tutto il paese Di Albone Di Vine Dove fosse Questa Questa foiba E nessuno Ce lo sapeva dire Purtroppo in Italia C'è ancora una componente Dico Purtroppo Politica Perché non dovrebbe Essere Una cosa del genere In quanto la storia Non può essere Letta Attraverso La lente Dell'ideologia C'è ancora qualcuno Che tende a negare A minimizzare Queste cose Incontriamo Incontriamo L'autore Del libro Terra Rossa Mauro Tonino Sì Buonasera Allora Siamo rimasti Un po' Sconvolti Dai racconti Che abbiamo sentito Purtroppo È stato È stato Un orrore Quello che è successo Sopra Al Carso Triestino Perché Questo libro E di cosa Parla Rossa Terra È un romanzo storico Con un'idea Quella di fare Anche divulgazione Storica Su quello che furono I fatti drammatici Dal 1943 Che poi durarono Fino agli anni 50 Che purtroppo Compresero La tragica esperienza Delle foibe Con molti morti E poi Il tragico esodo Perché anche lì 350.000 italiani Dovettero abbandonare Quelle terre Dove vivevano Da migliaia di anni Ecco Possiamo dire Ai nostri Ascoltatori Come sono fatte Le foibe Possiamo spiegare Loro questo Sì Le foibe Sono delle Forecarsiche Perché è un territorio Che negli anni Essendo una roccia Diciamo Friabile Ha permesso All'acqua Di scavare Questi buchi Molto profondi Addirittura Anche 100 metri Dove purtroppo Sia nel 1943 Ma soprattutto Nel 1945 I reparti Partigiani Titini Buttarono dentro Purtroppo Molti italiani L'usanza Era questa Ma cabra Di legare 5 persone Sparare Alla nuca Al primo Che trascinava Giù Purtroppo Anche gli altri E le testimonianze Di chi vide Questi fatti È legata Anche al fatto Che purtroppo Non si moriva Subito Addirittura Dopo qualche giorno Quindi Una tragedia È una barbarie Non giustificata Da nessun fatto storico Perché purtroppo Nelle foibe Oltre a qualche responsabile Finirono Moltissimi civili Che non avevano Nessuna responsabilità Dei fatti bellici Ecco Quello che a noi Ci colpisce Secondo lei Come mai Nei libri di scuola Non si è parlato Di questo Nei programmi ministeriali Perché io Diciamo Sono nato Dopo Parecchi anni Dopo Quello che È successo E a scuola Non ce l'hanno mai insegnato Sono venuto a saperlo Dopo Cioè Per conto mio Diciamo che addirittura Ci furono Dei fatti Incresciosi Quando gli esuli Vennero in Italia A Bologna Purtroppo Ci fu un episodio Molto brutto Dove una parte politica Li tacciò Di fascisti Addirittura L'atte che veniva dato Ai bambini Venne rovesciato Sui binari Perché purtroppo Gli esuli Erano tacciati Da fascisti Fortunatamente La legge Che istituisce Il giorno del ricordo Ridà dignità storica A questi italiani Che purtroppo Pagarono un prezzo Alla storia Per tutti noi C'è da dire Che Oggi Purtroppo Ancora qualcuno Tende a negare Questi fatti Ma Devo dire Che Nell'ultimo periodo Si comincia a fare Un ragionamento Di realtà storica E quindi Di riconoscere Quello che accade Veramente in quel periodo Ecco Ho visto stasera Qui in conferenza Parecchia gente Cioè Insomma Non si rimane Indifferenti a questa cosa? No Non si rimane indifferenti Perché Noi siamo vicinissimi A questa terra E quindi Forse in quest'area Sentiamo anche Con una certa Vicinanza E poi Perché In Friuli Ci furono Ci sono ancora Tuttora vivi Molti esuli Perché ricordiamo 350.000 persone Dovrebbero Dovettero Abbandonare L'Israel E la Dalmazia Quindi un argomento Da noi conosciuto E Queste iniziative Fanno bene Alla storia Perché E' bene Che si conosca Quello che è successo Tra l'altro Quello che è successo In Jugoslavia All'epoca Si tende A fare Una revisione storica Oggi Per fortuna Purtroppo Ripeto Una parte politica Ha sempre negato Questi fatti Riconoscendo Che il comunismo Fosse il paradiso In terra Purtroppo Sia per quanto riguarda Gli italiani Di Istria e Dalmazia Ma anche Alcune popolazioni Subirono Una vera e propria Dittatura Perché quella Fu una dittatura Certo Indubbiamente Praticamente Ci sono colpe Sia Come dire Dai fascisti Che anche Dai comunisti Sostanzialmente Guardi Le dittature Sono sempre brutte Indipendentemente Da chi le compie C'è da dire una cosa Che L'ideologia Non giustifica Nessun crimine Nelle foibe Ci finirono Buona parte Dei civili Addirittura Anche partigiani Ci finirono Ragazzi giovani Ci finirono Dei preti E quindi Ha un crimine Perché Diciamo L'esercito italiano Non si comportò Non si comportò Molto bene Nella Ex-Yugoslava Durante la seconda Guerra mondiale Non si può rispondere Uccidendo i civili Quindi Quello che fece Tito E i suoi seguaci Contro gli italiani Di Istria e Dalmazza Non ha nessuna Giustificazione storica A tutt'oggi Secondo lei Sono rimasti Dei confini psicologici Su Ma guardi Devo dire Che gli italiani Che sono rimasti Di là Hanno superato Restando in quelle terre Ovviamente Guardano avanti C'è da dire una cosa Gli esuli Non hanno nessuna Credine Anche se purtroppo Han pagato per tutti Il prezzo Della sconfitta Della seconda Guerra mondiale E quindi Anche loro Parlano Con una certa serenità Anche se con nostalgia Anche se Con dispiacere Perché molti di loro Hanno perso I propri carichi Il fratello Il padre Il cugino Però Credo che A questa gente Dobbiamo dargli Almeno La dignità Della storia Quindi un consiglio A noi Diciamo Dei media Ecco Potrebbe essere Quello di Continuare a parlarne Anche durante Tutto l'anno Non solamente Nel giorno Della memoria Beh io credo Di sì Perché Questo ci aiuta A capire meglio La storia A dare una lettura Diciamo Più vicina Alla realtà C'è da dire questo Le vicende Del confine orientale Intendendo sia L'attuale confine Ma anche Quello che accadde Di là Fu una situazione Assai complessa Perché Da una parte Avevamo Una situazione Per il nostro territorio Che la Delatis Custerland Cioè praticamente Il friule Venezia Giulia L'istra e Dalmazia Erano diventati Sotto i tedeschi Una provincia tedesca Quindi eravamo Sotto il terzo Reich Per cui da noi Si consumò Una storia Completamente diversa Rispetto al resto D'Italia Ecco questo era il punto Mi interessava Sapere Molto molto importante La ringrazio E naturalmente Buon lavoro Grazie anche a voi Riprendiamo da studio Ed ora L'ultima parola All'artista Giorgio Valentinuzzi Noi ci sentiamo Ci vediamo La prossima settimana Sempre agli stessi orari Dunque incontriamo Anche Il noto artista Giorgio Valentinuzzi Collaborato con Artisti di altissimo livello Che un po' Tutto il mondo conosce Ecco ti chiedo Una tua opinione Su questo orrore Che si è consumato Sulle foibe Sicuramente Nel revisionismo Attuale Le foibe Fanno parte Di questa Nosa cultura Riletta Ben ritrovati Al nostro consueto Settimanale Di approfondimento Pianeta Oggi Reporter Questo è il secondo speciale Dedicato All'Ecidio Delle foibe Sempre in occasione Della presentazione Del libro Rossa Terra Di Mauro Tonino Abbiamo poi raggiunto Un'esule Che ci racconterà La sua storia La sua esperienza Che ha avuto In quei momenti Tragici Lei si chiama Nevia Gregorovic Sottoscritto La raggiunta Ascoltiamo dunque Questo suo racconto Profughi di Monza E lì certamente C'era possibilità Di trovare lavoro L'Italia Stava emergendo Dalla situazione Catastrofica Nella fine della guerra E sono stati Anni difficili Io sono nata Nel 47 E so tutto Quello che è successo Perché mamma e papà Mi hanno raccontato Poi da adulta Gli avvenimenti E È stato brutto Perché anche I miei genitori Ancora prima di sposarsi Nel 45 Erano in lista Per essere Buttati in foibar Accolti Assieme agli altri In quanto I miei genitori Si consideravano italiani E comunque L'hanno scampata Bella Perché Combinazione In quel periodo Adesso non ricordo Bene il mese Sono stati Uccisi dai tedeschi Due persone Che mi ricordo Mamma diceva Kalkic E Bernobich I quali facevano La spia Per infoibare Le persone Poco gradite E contro Evidentemente Il comunismo Di Tito Erano Stati chiamati In combinazione Dal comando Tedesco Di Parenzo Che era In piatta stabile All'hotel Riviera All'epoca E Il comandante Tedesco Fece vedere A mia mamma E mio papà Richiamati Un foglietto Di carta Tutto stropicciato A righe E racconta mamma Di aver visto I loro nomi Inseriti Questo foglietto Trovato nella tasca Dell'assassinato O Calcicio Bernobich Non lo so Oltretutto A loro Era stato raccomandato Di stare allerta Perché erano Sotto tiro Evidentemente Dai titini Dai ribelli Perché all'epoca Non venivano Chiamati Partigiani I soldati Di Tito Venivano chiamati I ribelli Quelli che Nell'Istria Proprio Erano Facevano parte Dell'organizzazione Di liberazione Quindi voi Avrate paura Che di notte Vi venissero a prendere Sì Paura I miei genitori Io non ero ancora nata Perché era Intorno all'anno 1945 E racconta Mamma e papà Che avevano Un terrore Proprio Di essere presi Per fortuna Comunque Questo biglietto È stato trovato E l'hanno evidentemente Distrutto Di conseguenza I miei speravano Che tutto sarebbe Passato Sotto silenzio Per cui Hanno rischiato Di rimanere ancora lì In effetti Erano fidanzati E nel 1946 Si sono sposati La guerra era finita Ma non per loro Non per noi Insomma Ecco lei Mi conferma Che lì le cose Mi ci sono andate Ancora avanti Con questi orrori Si con questi orrori Sempre Perché c'erano Sparizioni di persone In tutti i momenti O Uccise Perché arnegate O sparivano Che non ritornavano Più a casa E nessuno sapeva Dove fossero finiti I loro parenti I mariti I fratelli I sorelle Cose pazzesche Ecco Voi invece Vi siete L'avete scampata Eh i miei genitori Si l'hanno scampata Per un pelo Anche se Papà era stato Preso dai fascisti Perché si era Rifietato di far parte Della Repubblica di Salò Quando poi sotto Sotto i tedeschi Raccoglievano tutti i giovani Che erano stati di leva E papà è scappato E fuggito L'hanno trovato Che si nascondeva In una fattoria Vicino alla sua abitazione A Parenzo E i tedeschi L'hanno portato A Trieste In Coroneo Prima a Pisino E poi a Trieste In Coroneo E lì Aspettava tutti i giorni La morte Perché c'erano state Delle uccisioni Da parte dei partigiani Dei tedeschi E tutti quelli Che erano nel carcere Ogni mattina Che ne contavano Dieci Fuori uno Il decimo Papà Non so come Abbia resistito A questa tortura Psicologica Perché ogni mattina Trovarsi in fila E temere Proprio per la sua vita Credo sia stato Uno shock incredibile E comunque La mamma L'ha salvato Mamma L'ha salvato come? Stava per essere deportato A Dachau O ad Auschwitz Non lo so In tanti campi di sterminio E la mamma Ebbe notizia Che si trovava A Trieste Con enormi difficoltà Con il lascia passare Arrivò Raggiunse Trieste Proprio nei momenti In cui c'erano Quei grandi bombardamenti Si rivolse Al signor Metzger Pensi Che è stato Il padrone Di Villa Gergina Di Parenzo Dove mio nonno Era fattore Negli anni addietro Per cui Mia mamma Ha mandato a lui Pregarlo Di fare qualcosa Per salvare mio padre Perché dice Lui non era Contro Né i tedeschi Né i titini Perché Mio padre è sempre stato Un liberale Una persona splendida Un artista Più che altro E lui Nel giro di un'ora Lo fece liberare Da lì E gli salvò la vita Mia mamma E quindi Poi siete venuti In Italia Siamo Sì I miei poi Si sono sposati Sono nata io E nel 48 Optarono immediatamente Per rimanere Cittadini italiani In territorio Ormai Dell'Istria perduta E mamma Aspettava E papà Sempre il rimpatrio Usavano proprio Questo termine Rimpatriare Ritornare a casa nostra Perché noi siamo italiani E venne loro Proibita L'opzione Viene Per otto anni L'attesero Finalmente Nel 56 Arrivò Il permesso Di poter ripartire Per l'Italia Quindi Optarono E Ebbero lo svincolo Dalla cittadinanza Jugoslava Insomma Ecco Lei Cosa Come dire Questa esperienza Che ha Vissuto Oggi Come la vede Io oggi La vedo Come un'esperienza Personale Che avevo Rimosso Durante Il mio Periodo Giovanile E durante La mia Crescita Insomma Di Di persona Perché mi sono sposata Ho avuto i figli Adesso Dal 2000 Quando sono andata In pensione Ho incominciato A studiare Un po' la storia Della mia terra Anche perché Per farla conoscere Meglio i miei figli Alle mie nipoti Io ho due nipoti Che vivono in Spagna E citerei tantissimo Che sapessero Le vicende Di questa terra Travagliata E martoriata Io sto scrivendo Un libro Con aiuto Di mia madre Che ha 93 anni Che ricorda Tutto lucidamente Proprio per Trasmettere Questa esperienza Alle mie nipoti Non solo Anche Della democratica Rispettando Rispettando le idee Di tutti Oggi come oggi È molto importante Da sapere E da ricordare Allora In conclusione Le dico questo Ci faccia sapere Quando è pronto Il libro Che noi siamo Ben contenti A poterlo presentare Da queste frequenze A dire la verità Il libro Era già pronto Nel 2003 Ma adesso Stimolata Da tanti amici E penso Che inizierò A riprenderlo Per completarlo Aggiungendo anche Altre cose Che nel frattempo Ho ricercato E ho scoperto Sì Grazie Siamo noi Che ringraziamo lei Per questa riflessione Per questa testimonianza A presto dunque Grazie Grazie Siamo molto gentili E viva Lissia Perché noi siamo italiani Due volte Per scelta E per nascita Sì E non siamo fascisti Assolutamente Mio padre è stato preso E dai fascisti E dai titini Perché ha fatto anche Il servizio militare In battaglioni di disciplina Quindi è stato proprio preso Per essere rimaneggiato E manipolato Cosa a cui lui Si è sempre rifiutato Di cedere Ha avuto una forza di carattere Io adoro i miei genitori Per quello che mi hanno trasmesso Come onorabilità Come dignità A livello personale Perché loro Non avrebbero mai fatto del male A nessuno Ne ha ucciso nessuno Insomma Possiamo dire che è anche Terra veneziana La serenissima Terra veneziana Serenissima Io adoro Venezia E tutto quello che rappresenta Mi sento un po' a casa mia Quando vado Anche a Parenzo Parenzo per me è veneziana Perché i sassi parlano Le mura parlano Tutto quello I leoni Che ci sono ancora Che sono ancora rimasti Senza contare di quelli abbattuti Durante la guerra Insomma Io adoro Venezia È quello che Napoleone Ha fatto Quando è arrivato Dalle nostre parti L'errore più grande Detto da uno spagnolo José Pla È che L'errore più grande È stato quello Di depennare completamente La storia di Venezia Nei secoli futuri E durante il suo periodo Venezia è stata grande Per 500 anni Per 800 anni È stata La repubblica Più tollerante Più liberale Che mai si è esistita Nel nostro mare Adriatico E forse anche In tutto il Mediterraneo Grazie Allora a presto Grazie Grazie infinite Riprendiamo da studio Ringrazio Per queste Spiegazioni Per questo Racconto La professoressa Nevia Gregorovic Altresì ringrazio Voi per averci seguito Vi do appuntamento La prossima settimana Con il terzo speciale Nel frattempo Io vi auguro Un buon proseguimento Con i nostri programmi Benvenuti al nostro Settimanale di approfondimento Prendete oggi Reporter Dedicato Al terzo speciale Relativo All'eccidio Delle foibe Sul caso Triestino Sono accadute Delle cose terribili Noi vi proponiamo Una sintesi Della cerimonia Che si è tenuta Nel giorno della memoria In località Marghera Siamo a ridosso Della laguna Di Venezia Presente C'era anche Il prefetto Di Venezia Noi ci vediamo Subito dopo Possono partire Tutti i nostri servizi Autorità Signore e signori Un benvenuto Un caloroso benvenuto Anche Agli alunni Dell'istituto Comprensivo Grimani Di Marghera E alle loro insegnanti Diamo inizio La cerimonia ufficiale Per la celebrazione Del giorno di ricordo Della tragedia Di tutte le vittime Delle foibe E dell'esodo Degli italiani Da Istria Fiume E Dalmazia Inizieremo la cerimonia Con l'inno d'Italia A seguire Averrà la deposizione Della corona Dall'oro Al monumento Di ricordo Dei martini Ascoltiamo tutti insieme L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia Si resta E nel modicino Si cita la testa Dove la vittoria Le borga L'avion Che se avariò Ma il Dio la creò L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia L'inno d'Italia Da ciò che resta Ancora oggi Ispiegabile È l'efferatezza Con la quale I partigiani comunisti Percentravano Le esecuzioni Le vittime Prima di essere uccise Subivano Maltrattamenti Indicibili Gli uomini Venivano Torturati Per giorni Le donne Stuprate E serviziate Senza alcuna pietà Sfiniti dalle violenze I condannati Venivano trasportati Su degli enormi furgoni Stipati come animali E portati Nelle vicinanze Delle folve Delle profondissime golle Di roccia Tipiche Della zona Venezia-Giuria Dell'Istia E della Dalmazia Gli italiani Erano legati Insieme Con il fil di ferro In gruppi Di due o tre I partigiani Per non sprecare Le pallottole Giustiziavano Con un colpo secco In testa Solo una delle vittime Che cadendo Nella foiba Si trascinava dietro Anche chi era legato Con lei In moltissimi Quindi Morirono Per le fratture Riportate Nella caduta Di fame O di stenti In quelle che si Trasformavano In pochissimo tempo In vere e proprie Forse comuni Naturali Si stima Che in appena Un mese Fra settembre E l'ottobre Del 43 Vennero Giustiziati E gettati Nelle golle Dei comunisti Più di 600 italiani Non solo E' impressionante Ciò che è emerso Dallo studio Della foiba Di Basovizza Dove venivano portati I condannati A morte Della zona Di Trieste In soli tre anni Dal 43 A 45 La profondità Di quello Che nasceva Come un pozzo Minerario Diminuiti Quasi un terzo Dopo la fine Della guerra Vennero ritrovati Un numero Di salme Che occupava Più di 500 metri Cubi di spessore Sarebbero oltre 2000 i corpi Estrati solamente A Basovizza Quasi tutti Gettati nella foiba Da vivi E deceduti In un'indicibile agonia Dopo un volo Di 200 metri Ogni giorno A proposito Di marea migratoria Da sinistra Arrivano Sermoni Moraleggianti Sul dovere Dell'accoglienza Generalizzata E incondizionata Di stranieri Eppure Se nella nostra Storia nazionale Qualcuno Ha da fare Un mea colpa Sull'accoglienza Dei profughi È proprio la sinistra Almeno quella comunista Il terrore generalizzato Di quella pulizia etnica Costrinse migliaia Di persone Alla fuga Per sfuggire Alle suicidazioni E dalle foive Per sottrarsi Alle persecuzioni Del regime titino Circa 350.000 italiani Fuggirono via Dalle città E dai paesi Dove erano nati Dove erano vissuti E dove erano sepolti I loro avi Dovettero abbandonare Le loro case E perdere i loro beni Fu dal 1945 Un esodo biblico Di migliaia Di povere famiglie Che arrancavano Con poche valigie Per trovare Rifugio in Italia Dove avrebbero avuto Un assoluto dovere Di accoglienza E solidarietà Non solo perché Si trattava Di nostri compatrioti Sto parlando Degli italiani Del Guarnaro Della Dalmazia Di Zara Pola E Fiume Per non dimenticare Le vittime Della pulizia etnica Perpetrata Dei partigiani Comunisti Italiani E Jugoslavi Da 43 A 45 Inistria Dalmazia E Venezia Giulia Perché la memoria È l'unica Orma che si possa Opporre al silenzio Ora non sarà più Consentito alla storia Di smarrire L'altra metà Della memoria I nostri deportati Infoibati Fucilati Annegati O lasciati morire Di stenti E malattie Nei campi Di consensamento Il scopo di odiare Ma lo scopo di amare La sofferenza Non ha colori Ci dobbiamo tutti Unire vicino Ai giovani E farli capire Che I nazionalisti estremi Le ideologie Esasperate Portano soltanto Al dolore E alla sofferenza E quindi dobbiamo Stare vicino ai giovani E farli capire Che l'unica salvezza È quella Della fratellanza E dell'amore Sì È un orrore Che ha condizionato La vita Di centinaia Di migliaia Di persone Di famiglie Estirpate Dalla propria Città Delle Proprie Dovi d'origine O uccisi Per questo motivo Che però In Italia Ha fatica Ma poi Infine Qui a Marghera In particolare Sono riuscite A ritrovare Una comunità Una nuova radice Ricordiamo questo Nella giornata Del ricordo A Marghera Dove è nata Prima ancora Che venisse Istituita In Italia Ricordiamo La tragedia Ricordiamo La speranza Nuova Che si è aperta E che qui Si è potuta Concretizzare Quindi L'abbiamo Sempre Sentita Come una data Che guarda Indietro Per capire Cosa è successo Ma ci spinge Avanti E sull'esempio Proprio Dei profughi Che qui sono venuti E che Insieme a tutti Gli altri Hanno costruito Una comunità nuova Grazie Grazie Riprendiamo da studio Dunque Sono momenti Questi Che ci dovrebbero Far riflettere Sono accadute Dicevo In testa La trasmissione Delle cose Veramente Terribili Sul caso Triestino Pensate fino a che punto L'uomo di questo Pineta Arriva Arriva a compiere Delle cose Orribili Cioè Che io credo Che nessun animale A questo mondo Riuscirebbe Ad arrivare A così tanto L'uomo Si però E per non parlare Più recentemente Negli anni 90 Cos'è successo In Bosnia Ecco Su questo Vi diamo appuntamento La prossima settimana Con un altro Nostro speciale Nel frattempo Vi ringrazio Per la cortese attenzione Buonasera Bene cari amici Come Avete potuto notare Anche oggi A puntata Spazio aperto Andate in onda Nonostante Abbiamo avuto Di problemi Tecnici Con gli ospiti E quant'altro Però Questo speciale Era dovuto Quindi Avete appena visto Lo speciale Spazio aperto Sulle foibe Vi ricordo Che il documentario Il filmato Che avete visto Sono tre puntate Diviso in tre puntate Sono Un video Prodotto Da Pianetoggi Pianetoggi Di molto interessante Da proporvi Come osservatore Antimafia Quindi Non mi resta altro Che augurarvi Un buon proseguimento Con la nostra Programmazione Andiamo subito Con la sigla finale Un buon proseguimento Un buon proseguimento Un buon proseguimento Un buon proseguimento Grazie a tutti.